Terzo anno in maglia bianco-rossa, allora si comincia a faticare, anzi per la verità è già da quasi dieci giorni, insomma come procede qui? No, procede bene, un gruppo buono secondo me, giocatori forti, ci stiamo impegnando e stiamo correndo, sudando per arrivare all'inizio del campionato nella forma migliore. Come si stanno integrando anche i nuovi giocatori, lo chiediamo a te che sei un po' della vecchia guardia? No, benissimo, tutti i ragazzi seri, scherziamo tanto, poi quando c'è da sudare, da stare in campo siamo concentrati fuori, un bel gruppo si è creato e penso che quest'anno potrà fare la differenza. Un passo indietro, la partita con il Vicenza, le tue considerazioni, insomma un gran secondo tempo del Teramo contro una squadra che comunque mira a effettuare un campionato importante? Ma sì, abbiamo approcciato abbastanza bene, essendo la prima amichevole importante e niente, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di imborre il nostro gioco anche se il Vicenza è un'ottima squadra, adesso cercheremo di lavorare per arrivare a questa partita di domenica, per noi molto importante. Parliamone! Anche se è un amichevole però di prestigio, un amichevole di prestigio e quindi cercheremo di fare il massimo anche se sarà difficile.